Buongiorno a tutti, riprendiamo il filo di parola della mattina, Mario Sant'Agostini di Milano, forse si ricorderà, è venuto qui a Sarò, non eravamo qui, non eravamo qui, non eravamo qui parecchi anni fa, c'era Mario Luzzi, una serata, ti ricordo bene, e lui praticamente era uno degli ospiti, relatori eccetera, ho avuto l'onore di presentare Luzzi, era il, Luzzi aveva appena perso il premio Nobel, mi ricordo questo, è stata la prima uscita che Luzzi fece dopo il quasi Nobel, dopo il mancato Nobel, quasi, forse fu una bella storia su quel Nobel per le racconti alla fine, una storia di quelle... Fu l'unica volta che, fu la prima uscita pubblica di Luzzi dopo quell'accordo. Fu la prima uscita pubblica di Luzzi, tu eri uno con Riviani, Cucchi, sono passati molti anni, vabbè, Sant'Agostini è un poeta, è un poeta milanese, ma la cosa intrigante, poi adesso praticamente non prendiamo molto tempo a raccontare, a dire che è una delle voci più importanti, insomma, della poesia italiana contemporanea, ha scritto importantissimi libri per l'editore di riferimento di Mondodori, la cosa intrigante, un po' anche un po' una storia inusuale nella poesia, è che pochi mesi fa, qualche mesi fa praticamente, è uscito un suo libro, un suo libro che però è un libro che riprende delle cose che ha fatto Mario Sant'Agostini circa, forse più di 30 anni fa. Proprio, più di 40. Più di 40 anni fa, è molto strano, praticamente, poi aveva scritto tutti questi libri importanti per il Mondodori, eccetera, da altri editori di riferimento, che un poeta venga pubblicato con dei versi, che ha scritto praticamente, scusami, corregge se non sbaglio, a 16 anni, 16-18 anni, tra i 16-18 anni, e sono dei versi, e sono dei versi molto belli, rarissimamente, credo che sia successo una cosa di questo genere qui, pochissimo, per cui è un libro che in questo senso ha ripreso il filo della conoscenza, quindi della relazione con Mario D'Agostini, e mi sono detto, riportiamo Mario D'Agostini ripartendo anche da questa esperienza, da questa uscita di questo libro, e però ritorniamo a noi, siccome il filo conduttore, quest'anno, è quella della ripresa dei versi di chi non c'è più, come abbiamo iniziato a romperlo, a cose di questo genere, e quindi io ti direi, iniziamo dai versi di chi non c'è più, che tu mi pare avessi scelto, riferendoti a Zanziotto, e poi proseguiamo con la vicenda poetica di Mario D'Agostini. Buongiorno a tutti, inizio tutto. Non so, perché l'amico ha fatto riferimento a delle poesie che io ho scritto veramente in età, come si dice, ingenuamente giovanile, anzi assolutamente giovanile, quando, io poi tra l'altro, ecco, ci tengo a dire una cosa, ci tengo a informo, io non mi sentivo uno che da grande doveva fare il poeta, ecco, no? Semplicemente, come capita, penso un po' a tutti, da ragazzo, perché probabilmente si parla di versi che avevo di 16, 17, 18 anni, tutte queste cose, ogni tanto scrivo delle poesie, e non ero neanche un grande lettore di poesie in quel momento, nel senso che poi tra l'altro ho fatto studi anche di filosofia, tra l'altro, quindi sì, è il dramo, ci può stare delle vicinanze, ecco, ma infatti dopo quel libro, che uscì un po' la macchia, quasi così uscì nel 72, se non sbaglio, un po' la macchia, per cui ecco, l'avevo lasciato un po' nel, così, diciamo, errori di gioventù o eventi di gioventù o cose del genere, ho ripreso a scrivere versi a 25, 30 anni, una cosa del genere, e un anno fa, un paio d'anni fa, un amico che si chiama Maurizio Pucchi, che è anche uno dei miei maestri, tra l'altro, disse, ma perché, cioè, ho riletto il libro che avevi scritto tanti anni fa, sarebbe una cosa simpatica ripubblicarlo, no? Io al momento non c'ho, devo dire, pensato, ho detto sì, ok, eccetera, poi però quando si ristampa un libro non neanche ribatterlo, eccetera, no? Tutte quelle operazioni, e francamente un certo effetto ribattere, quindi un po' riscrivere cose già, cose di 40 anni fa, ripeto, anzi più di 40, una certa emozione, devo dire che me l'ha data, e quindi mi ha fatto così, abbastanza effetto, ecco. Io non credo di essere stato un autore precoce, ecco, se era quello che un autore precoce ho particolarmente dotato, rileggendo proprio, se vuoi dire, la sincera impressione che ho avuto con un minimo di distacco, rileggendo le poesie di quel momento, io ci vedo proprio un ragazzo che ha voglia di esprimersi e quindi sceglie la letteratura, sceglie la poesia come, come, così come strumento. È chiaro che rappresenta quello che ormai è un punto di inizio, ecco, mi piacerebbe tanto essere, mi piacerebbe tanto essere ancora lì, in quella situazione, e, oltretutto, ho rivisto, ecco, me stesso, molto ingenuo, ecco, molto ingenuo rispetto a quello che è l'espressione, e è una forma di ingenuità, e anche, devo dire, molto ignorante rispetto alla letteratura, perché io non leggevo molto, ecco, idiot, idiot, un autore che nella mia, chiamiamola formazione poetica, chiamiamola così, è un autore estremamente importante, ecco, però gli autori che leggerò adesso, io li conoscevo veramente molto poco, e ho notato effettivamente che, per esempio, che so, in certi versi scritti quando ero bambino, si sente qualcosa, per esempio, di Giovanni Raboni, che io in quel momento non le ho retto. Allora, le due luna, o, come si dice, io, è un caso strano, oppure esiste una cosa, una cosa importante, cioè che in fondo, tutti noi, quando ci esprimiamo, ci esprimiamo e parliamo, come diceva un autore importante, e parliamo in fondo della stessa cosa in modi diversi, questo, per me è stato un po' una dimostrazione di questo, ecco, e quindi trasmetto una serie di, così, di sensazioni, con l'augurio, per me, devo dire, di recuperare, di ritornare a quella forma, proprio chiamando ingenuità, proprio come scrivere senza pensare, pubblicare, senza pensare a tutte queste cose, è proprio scrivere perché in quel momento ha un profondo desiderio di esprimersi e di parlare con se stesso, sarà molto autoreflessivo, per carità. Ecco, mi piacerebbe ritornare a quel, a quel modo, ecco, di scrivere, perché è un modo in fondo ingenuo, è un modo che non ha nessun interesse a essere chiaro, per esempio, oggi si parla molto della chiarezza, della poesia, che è una cosa che a me spaventa sempre moltissimo, come lei ne prendiamo, e adesso vorrei passare a leggere, a un autore, perché quando vi ho letto la prima volta, io sono rimasto assolutamente impressionato, uno di questi è Andrea Zanzotto, che, appunto, lo dobbiamo riconoscere non molto bene, devo dire, ci siamo incontrati qualche volta, come adesso sapete è mancato, appena tagliato il traguardo dei 90 anni, è venuto meno. Secondo me c'è un libro di Zanzotto che è straordinario, che si chiama Locartino, è un libro che lui scrisse, cioè uscì nel 1957, Locartino, quindi, ecco, una cosa vorrei dire, io ancora, a leggere certe poesia di Zanzotto, io ancora faccio fatica a capirne tutto il senso, ossia, ogni volta che io prendo in mano a quest'autore, non solo lui, la Zanzotto in particolare, trovo delle cose che in precedenti letture, e che ormai, insomma, per quante volte che voi averlo letto, che in precedenti letture mi era sfuggito. Secondo me è questo che fa, è questa ovvio non comprensione totale, che fa del poeta il grande poeta, il grandissimo poeta. Il fatto è che non si capisce tutto subito, cioè che rimane qualche cosa di irrisolto per chi lo legge, e quindi rimane un rapporto non completo con il testo, e quindi in un certo senso costringe il lettore a tornare a leggere il testo. Ecco, questa secondo me è la grandezza di pochi autori, e tra cui appunto Zanzotto. Si legge una, ovviamente non con la capacità che aveva lui, una delle sue poesie più famose, perché è evocativo, proprio caso evocativo. O miei mozzi trastulli, pensieri in cui mi credo e vedo, ingordo vocativo, decerebrato anedito, come lordo infecondo avvolge un cielo, armonie di recise ariste, vene dubitanti di ribi, e qui deruba, già le lampade ai deschi, sostituisce il bene. Come i cavi si ingranano a crinali, i crinali a tranelli, a gru, ad antenne, e ottuso mostro, in un prima, eterno capovolto, il futuro diviene. Il suono, il movimento, l'amore, si ammollisce in bava, in fisina, gettata a torcia, il sole mi sfugge. Io parlo in questa lingua che passerà. E qui vorrei far notare gli ultimi due versi, l'ultima frase, io parlo in questa lingua che passerà, a me sembrano uno dei picchi più alti che ha avuto non solo la poesia italiana, ma anche la lingua italiana. E come si vede un verso, tutto sommato, di una, non dico semplicità perché non è affatto semplice, però di una linearità, di una pulizia che, anche una cattiva lettura come la mia, assicurati, io credo che si, si, si afferra, ecco. Ne posso leggere un'altra? Solo un'altra. Solo un'altra? Una parte solo perché, ecco, anche qui siamo sempre un po' in quella zona lì. E fuisse si chiama. Pace per voi, per me, buona gente senza più dialetto, senza palli le grandi nei viglieri, senza luce di vendemmie. Pace propone e supremo torpore l'alone dei prati, la cinta originaria dei colli, la rosa dispersa al sole che morde fra le tombe. Ah, la cicuta, il poco formicolio, non più colà sepolto. Ah, l'acqua troppo tenue che mi cola, oltre la gola e gli occhi, e di là, di là si invischia, intrepidi, miseri specchi in cui l'ortica insupervisce. E ah, ah soltanto, nei modi obsoleti di umidi, virgili, di pastori castamente avvizziti nei libri, nella conscia terrena polvere. Ah, ripeto io, versato nel 2000. Questi versi sono di 1955, li ha scritti Zanzotto. Versato un po', versato, io versato nel 2000. L'ho interrotta perché poi, secondo me, si rischia di perdere. Poi la potenza di questo autore, in quale, se avete visto, si, cioè sostanzia una poesia su un'interiezione, su un A. E questo, anche qui lo trovo, un picco della lingua italiana, che è atroce da una parte, di una potenza spaventosa dall'altra. E credo che sia la testa di un'autore qualcosa che lo dobbiamo sempre riparare tutte le volte che vi doggiamo. Il titolo abbiamo compiuto, abbiamo iniziato a parlare, diciamo, dai versi di chi non c'è più. Adesso, mentre lui prepara, diciamo, il percorso della sua vicenda personale, e quindi leggendo dai vari libri, io devo fare una piccola comunicazione di servizio che riguarda comunque Sant'Agostino. Perché lui a telefono a me ha detto, mi ricordo così bene dello spazio di Saronno, la relazione con questo pubblico, eccetera, che oltre ai miei libri, io vi porto anche un po' di inediti. Di solito non lo faccio spesso, ma mi sembra che sia un gruppo di persone che merita di ascoltarli, anche i miei inediti. E quindi ha portato anche degli inediti, che ha fatto una cosa buona. ovviamente avrebbe dovuto portare degli inediti, non li ho portati, però noi li abbiamo stampati. Quindi una piccola comunicazione di servizio, se qualcuno mi porta a quel documento che vi è stato distribuito, restituisco gli inediti all'uomo che non li ha portati. Poi verrà, magari ci sono e non li trovo. Sì, sicuramente. Basta recuperare un foglio di... Non voglio privarti della lettura, fuori ci sono tanti. Grazie, grazie, infinitamente. Inizia come... Ma io vorrei cominciare... Ecco, confesso che io non ho preparato una poesia di Raboni da leggere, se... Anche perché... Come vuoi? No, nel senso che, secondo me, Zanzotto è un autore inimitabile, credo. Assolutamente. Cioè, è impossibile. Si possono avere delle soli citazioni, ma se ci fate caso, cioè, chi conosce un po' Zanzotto, non ha eredi. Cioè, Zanzotto è un poeta che non ha lasciato nessuna scuola, perché è impossibile che un autore di quel livello, quel picco di lingua, lasci poi dopo qualcuno che scrive ispirandosi a lui. C'è un poeta che io ho amato molto anche, e ne sono stato anche amico, che era Giovanni Raboni, che mi pare fosse venuto qui anche. Ecco, Giovanni, il quale scrisse nel... negli anni Sessanta un libro molto bello che invito al caso a leggere, che è Il caso della vetra, proprio di ambiente milanese. Io non riesco... Non ho spesso a capire... Ha fatto bene a dirmelo. Si capisce? Mi attacco. Beh, ma chi è vicino magari sente meno bene di chi è in fondo. Comunque si sente. Se non si sente, ditemelo, per favore. Ma lei non si sente all'alto, non si... Perfetto. Ecco, leggo la poesia di Raboni. Quasi sempre a quest'ora, è sentito la cinema di pomeriggio? Quasi sempre a quest'ora arriva gente un po' speciale, però di buonissimo aspetto. Chi si siede, ma poi continua a cambiare posto. Chi sta in piedi, sul fondo della sala, e fiuta. Fiuta rari passaggi. La bambina mezzo scema. La dama che entra sola. La ragazza sciancata. Ecco, che cosa si può fare? Li guardo per sapere che storia è la loro. Chi li caccia. Quando viene la luce, penso come il cuore gli si deve contorcere, cercando di essere salvo o più in là. Di sprofondare nel buio che torna tra un minuto. Eramoni è un autore che invece è stato, che secondo me è un maestro per molti autori italiani. Tornando un attimo a me, io l'ho scritto nel, è uscito nel 2007, un libro che si intitolava I versi del malanimo. Malanimo è una parola che a me piace molto perché è un composto sia di uso comune sia anche una parola colta. Leggo qualche poesia da quella raccolta in cui appunto poi secondo me si capisce molto bene quali sono i riferimenti. Guardo le macchie d'olio sul canale. Il pensiero di una testa d'angelo impagliata poi di due, tre violini sfasciati fanno scattare in qualcuno strane euforie nervose. Più avanti toccherà ai fiori di spalliera, ai lampi di calore, alle cause degli angeli, alle teste. Questa era intenzionalmente dedicata a una persona che non c'è più. Poi spesso nelle poesie il pretesto è assolutamente va in secondo piano. non so davvero cosa stai facendo probabilmente nulla o guardi mucchi di arance andate a male calce spenta in cortile ascolti piccioni ventole siatatoi forse ci rivedremo o nessuno vedrà più nessuno o c'è un finale dove l'eterno ha rottamato l'eterno vivi e morti parlano tutti vivi ai morti piove il cielo mi ama di meno qualcosa che non è più cielo ancora meno ero con cimatura venuta dall'altissimo poi la discesa verso fredde invenenite lagne poveri morti e poveri rottani ecco la memoria cade diventa sciatta disordinata o si è dimezzata quelli che erano amici le donne che ho guardato sono finiti in anni e ore irritornabili in nessuna strada e nessun regno di tutti i modi di esistere portiamo stampato addosso il più friabile ho sognato mio padre solo una volta negli ultimi due anni l'impressione era che nemmeno lui fosse felice ma mi parlava di paesi diurni zeppi di conigli e di ginestre manteneva intatte forme di stupore per la vita di meraviglia astiosa verso le mie giornate come non le avesse volute queste poche poesie di questo libro che è come si dice che sono quasi tutte senza titolo questo è una delle poche che ha il titolo invece il titolo è non amano la luce certo adesso adesso non amano la luce e nemmeno c'è una luce che li ha amati zoppicavano dentro una rissa becera tra pochi anni e l'eterno e l'eterno ha perso chiunque tu sei dismetti la certezza che la vita è stata il loro momento migliore ecco qui c'è una parola che bisognerebbe pronunciare Fön alla tedesca no ma in a Milano si chiama Fön qui lo dico Fön io l'ho sempre in Catania se dice Alger Fön in Cue c'è del Fön più in là il canile tra le ortiche qualcuno si lamenta perché mi aspetta da anni e non arrivo o sono già arrivato e mi sento addosso della materia umana meno attiva come un giostraio un venditore di giocattoli che alleva fiori e animali per cuocerli certe volte penso al piacere da dove sono nati i miei figli e mi chiedo se non è stato solo del puro odio verso il male ma vengono da lì e non verrà più nessuno ignoro se o come si sono difesi per non stare tra noi se hanno resistito a me alla madre all'universo e quanto a lungo questo è uno dei libri è uno dei libri importanti dei Santa Corsini e ovviamente anche questo è uscito per un mondatore io mi ricordo man mano che leggevi che tu in particolare passate un po' di anni non è vero che sei venuto solo quando c'era Ruth sei venuto anche un'altra volta proprio agli albori di questa avventura strana ma allora il libro è un pieno ma anche quella volta credo che sono stato il primo anno non mi ricordo nemmeno ma anche quella volta e allora il libro praticamente non era questo per motivi perché non c'era ma anche quella volta non eravamo qui non eravamo qui e il libro allora era il libro il libro dell'Untia che non ho qua con me che non è più con te e allora mi ricordo di essere di quel libro era due o tre cose insomma due o tre cose io sono mattina che parlavo con un altro poeta che verrà il tempo che sarà anche lui seduto vicino a me qualche volta mi diceva tanto per ritornare a due versi poi a quelli che mi diceva ma sai Giovanni in questi ultimi anni non so se mi è parlo però mi è capitato di pensare che è come se i poeti scritto un primo libro importante facevamo esempio di qualche poeta numerosa che noi nominiamo alcuni anche e come se poi col tempo gli altri libri fossero come dire meno importanti più deboli meno all'altezza per dire di che Sant'Agostini è un po' è un po' adesso non è che voglio parlare bene insomma perché è qui ma è un po' così io non avevo fatto tanto una riflessione di questo genere qui lui mi ha detto lavori mi ha fatto fare questa notazione ha pure ragione ha pure ragione ma è un po' così per motivi soldabili insomma è uno che invece è uno che invece praticamente ha scritto dei libri buoni anche loro comprare ringrazio mentre mentre leggeva questi questi versi e parlava bene di Elio cioè per forza non credo che ci sia venuto più una qualità che certamente non abbia andato Elio ma c'era molto mandrostata praticamente cioè c'era delle sonorità delle capisci delle una mandlistanicità praticamente che è una mia che è una personale lettura di questa di questi versi straordinaria ma c'era anche praticamente una specie di involontaria bellissima praticamente fratellanza con i versi con i versi direi di Milo e di Maurizio praticamente sia di Milo e di Milo ovviamente diverse eccetera che quasi mettono insieme una seconda milanesità di una poesia hai capito cosa vuoi dire una seconda milanesità che è importante adesso io non dico il progetto perché è una sorpresa che è una cosa da recuperare da raccontare perché non è vero che è stata una racconta perché si fa sempre una milanesità corrente tutto quel mondo no? e lì c'è una seconda milanesità che per esempio i versi di Maurizio e sicuramente di Milo milanesi ma oggi oggi aggiungo oggi aggiungo di Mario Santacossini sono una cosa da riprendere e da raccontare che sono una cosa preziosissima preziosissima non solo per la letteratura ma no è così non è che sono preziosi come la letteratura sono preziosi per stare insieme in un futuro un momentino meno grigio e questo è il punto di cercare detto questo non dico più niente se non faccio io più a dire però non dirla questa cosa ma spalla ma ecco c'è una cosa spesso succede no questo cioè che anche io ho sentito dire parecchie volte l'opera prima è i libri e cioè per molti autori è capitato che la critica ha detto spesso tutto quello che è venuto dopo l'opera prima è stato inferiore questo vale non soltanto per autori contemporanei ma anche per esempio Clemente Regola che è un autore immenso i canti anonimi sono considerati l'opera massima e dopo c'è una specie di declino io non sono tanto convinto che sia così ma questo poi diventa un discorso accademico ecco accademico oppure così ma anche Montale è stato accusato in fondo da alcuni versanti di non aver iscritto o anche Ungaretti cioè Ungaretti è sempre stato improverato e non aveva iscritto l'allegria tante volte perché forse spesso il lettore che si entusiasma di un primo libro in fondo pretende inconsciamente credo e ci si aspetta sempre che l'autore riscriva sempre lo stesso libro e magari invece non succede così e allora in un certo senso lo debista e allora magari il lettore rimane deluso perché? perché si aspetta una cosa che non ci può essere ecco perché invece io diffido molto dell'autore che invece riscrive sempre la stessa cosa credo di fidare parecchio credo ecco poi su quelli che sono i percorsi individuali non lo so non lo so francamente ecco poi credo che sempre le persone meno adatte a parlare di se stessi siano l'autore perché se cominciano a parlare non smettono mai di solito e diventa poi terribile anche stare a sentirli è vero però che tu hai parlato prima di due autori che sono anche due amici tra l'altro sia Maurizio Pucchi sia Milo De Angelis con cui tra l'altro giuro quando ci vediamo e ci vediamo bastante spesso non parliamo mai di letteratura ecco però è vero che probabilmente io credo che esista un genius loci o un humus per cui io sono d'accordo con quello che diceva lui prima cioè bisogna recuperare un'idea forse della letteratura lombarda che appunto non è soltanto regola o soltanto l'espressionismo tanto ben visto da Contini o la scrittura di Gadda o soltanto la frase nominale ecco insomma è anche qualcosa che forse davanti a opera è per quello che mi è venuto citare Giovanni Raboni come tra gli autori importanti perché Raboni secondo me è un autore che ha insegnato a scrivere a un'intera generazione di autori secondo me Giovanni ecco perché è riuscito a togliere di quello che è il clima di Milano il nucleo poi l'uno poi se lo rilegge a suo modo ecco forse per chi è uno più di Sereni da questo punto di vista ha fatto più scuola Giovanni Raboni che di Torno Sereni se leggo la poesia che è venuta dopo e io ho qui alcune poesie mi sono portato dietro che sono proprio dei rimediti sì ecco questa è una poesia che non è mai stata per esempio quasi mai pubblicata credo sono molto contento di questo non so se li avete ma leggiamo tutto che abbiamo sì sì ma io ho anche se volete ho anche poi un momento intermedio tra i versi del malanimo e questi meriti che è questo libretto di edizione uscito da da dai padri di Orfeo però se non ci dimentico seduto a un bar del viale per delle ore intere ho pensato a come sono fatti i corpi se meritano qualcosa di meglio della vita forse erano destinati ad altro non a dire io sono senza che nulla li impedisca e sono ancora troppo importanti l'universo e i suoi simili abito oltre capolinea qui si sfruttano ancora i prati cercano erba commestibile o funghi allucinogeni l'aria è carica d'ozono le mimose sembrano più vive di vespe di bellule che pena viene da dire per la semplicità dell'infinito quando sente tutta la sua paura dell'inanimato come aspettasse aiuto ieri lunedì sono arrivato a piedi oltre il dazio ho camminato lungo la martesana c'erano delle vanesse dal volo scombinato per tre tuoni in fila ho pensato che le pietre sanno fare a meno della vita mi chiedo fino a quando forse il mondo esiste solo per dare loro la parola un giorno qui c'erano alcune poesie di una sezione di un possibile libro a venire che appunto intendevo intitolare Sironi un pittore che io come penso tutti noi abbiamo amato molto ma è un po' un pretesto per per parlare impressioni mie di quello che sono un po' io ecco ho seguito le idolatrie della prospettiva ho qualche ricordo d'architetture staliniane ma nella sua cecità verso il tutto il novecento mi ha insegnato anche a pensare a una seconda Milano con stadi casermoni per vite operaie e interminabili non è stato niente forse la materia non sa dare non sa ancora dare il medio di se stessa l'infinito non è fatta per questo è la prima volta che leggo in pubblico queste poesie scusate un minimo di fatica io ho raffigurato gente che non ha mai amato il corpo non ha considerato la sua parte superflua è arrivata tardi troppo tardi per questo in molte mie periferie c'è posto solo per operai che rimpiangono di non essere stati fatti di ferro derottamato o battuto fino a farne carne ma sempre ferro non avrebbero sentito la fatica e qui l'ultima è il sogno di Sironi Milano ma come una superinstallazione a cielo aperto con idrofori radar megafoni e radio a galena potentissime in bassa frequenza tutto per ascoltare i suoni che dalla pianura arrivano qui i certi strumenti erano e sono sensibilissimi al vento a quei suoni fino a una semi euforia fatua già quasi umana grazie io ho trovato una che poi ti farò vedere e Sironi se leggete Sironi quando parlavamo di un'ordine se leggete per esempio il tema dell'addio i primi pensi del tema dell'addio riprendono praticamente lo nomina non meno di 3 o 4 volte ma lo nomina perché tra le altre cose se avete la fortuna di fare una passeggiata in una certa parte della bovisa una certa parte della bovisa perché una buona parte non c'è più della bovisa una certa parte della bovisa c'è ancora Sironi Sironi è lì così come negli anni 30 negli anni 40 diciamo così e se leggete alcuni versi del grande grande primo libro praticamente di Novice Pucco pure se non è nominato praticamente nel disperso è nominato in un libro sì ma c'è la derivanza poi lui è vissuto di Maurizio nella prima fase della tua vita per cui Sironi non a caso un attraversamento di questa poesia terosa no no io proprio dire Sironi è un artiste poi non sono un grande tecnico di arte come capisco devo dire abbastanza poco con Sironi però per me si incrocia due cose io sono una bestia urbana cioè sono sempre vissuto a Milano e per molti proprio molti anni e poi gli anni forse importanti per la formazione tra i 12 e i 20 anni ho vissuto in periferia estrema e per Sironi Zello Barsano per essere chiari quindi era proprio la periferia allora era diciamo si avvertiva proprio la differenza tra la città e il comune fuori appena appena fuori cosa che oggi secondo me si vede molto meno si avvertiva anche per esempio nella lingua perché il milanese dice Seguè il cinisellese che è appena appena riuso è proprio appena appena fuori dice già Seguè Cusè è come il monzese quindi è già proprio quasi un accento diverso e quindi chiaramente Sironi si impatta molto con quella che è stata un po' la vita la vita personale perché poi voglio dire se uno certi paesaggi urbani o certi paesaggi proprio che noi guardiamo quando abbiamo 14, 15, 18, 20 anni poi ci portiamo dietro per sempre quindi la periferia è importante per me in questo senso quindi in qualche modo anche adesso che è sempre in vestito urbano però abito in Porta Venezia abbastanza in centro la periferia mi accorgo proprio leggendole adesso che torna in un modo quasi importante ecco la tra parte penso che sia anche giusto anche giusto così c'è uno ha l'immaginario che si che gli dà la vita ecco non è che può crearsi un altro ad hoc eh giusto come tutti negli anni 60 non credevo al futuro oggi guardo il gasometro le case gescal una fila di box il tram quando frena una volta sognavo qualcosa di meglio della materia e della vita ora non sono in grado di aspettarmi nulla l'eterno poteva essere diverso domanda che facciamo quasi tutti a queste esotive fisiche abbiamo l'esigenza di aspettarci qualcosa in altre 12 anni non lo so mi piacerebbe tanto sapere non lo so se qualcuno me lo disse non lo so è quasi di modo dire che è un brutto momento questo penso che sia veramente giusto che sia un brutto momento non lo so anche perché io credo che noi abbiamo a meno io parlo della mia generazione il fatto del 51 noi abbiamo categorie secondo me proprio di comprensione categorie così di interpretazione della realtà che sono categorie che ci siamo formati in anni che la vita era completamente diversa anche proprio il bene e il male erano completamente diverse rispetto a quello che succede o che succede adesso non so se siamo ancora ecco la paura che quasi è più io è che oramai ci sia una velocità tale per cui noi parlo ripeto a livello di età ma che anche altri mentre forse il mondo era trovato spesso con qualcuno che lo capiva e io ho l'impressione di certe volte che invece se ne stia andando avanti con nessuno che lo capisce che vogliamo indichilismo estremo però temo che se il mondo comincia a farsi male da solo è perché nessuno lo capisce bene ecco ho paura che proprio manchino se sono venute meno in questo momento le cioè ci sia un nulla di senso quindi diventa anche un nulla di interpretazione e questo a me fa una paura veramente forte devo dire perché e se vede il male ma capisco che è il male lo vedi negativo è che capisco che è il negativo posso sperare qualche cosa se vedi negativo e non lo capisco e io ho paura di questo non so per me ho paura di questo che non ce ne viene cioè abbiamo categorie che sono arcaiche rispetto a quello che ci troviamo a vedere e quindi facciamo fatica a vedere e non riconosciamo allora le cose senza me sta riferendo moltissimo sono risposte con un po' di oscurità come dice Cesare Viviani che però praticamente è una cosa buona però è un negativo spostante e non è oscurità sono le mie categorie che non sono più adeguate a vedere quello che succede quindi io magari prendo delle grandissime sciocchezze rispetto a cose che invece fanno parte magari oppure fanno parte di qualcosa di bello progressivo anche per carità pure magari non vediamo neanche il bello progressivo cosiddetto non lo so è un momento così io però pochi giorni fa sfogliavo la rivista di crocetti poesie che mi arriva regolarmente felicemente a casa e lì ci sono delle monografie ogni ogni mese ovviamente dedicate ai grandi poesi internazionali c'è un poeta spagnolo che diceva a un certo punto ma si riferiva alla sua vecchiaia ma era una metafora era una metafora di risposta forse alla domanda che tu ho fatto diceva siamo una rosa ammalata indecisa tra il profumo e la morte è una cosa fulminante praticamente è un passaggio di questo genere qui speriamo di andare sul profumo punto fine l'aperitivo grazie di tutto è stato molto bello grazie una cosa grazie chi volesse chi volesse acquistare un libro l'ultimo libro di cui vi ho detto che è il primo e qui non so dove l'hanno credo che sarà fuori ci sono un po' di coppie sono disponibili eccetera eccetera al prossimo appuntamento grazie 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 grazie